Buongiorno, bentrovati all'appuntamento di mercoledì 12 agosto con Mattino 6 la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei nostri quotidiani. Partiamo dal centro, dalle edizioni del quotidiano d'Abruzzo, apriamo con l'edizione di Pescara per andare a leggere insieme la prima pagina, eccola qui, che si apre con il suicidio dell'assassino del pasticcere Giovanni Grieco, si è tolto la vita ieri notte nel carcere di Castrogno al mattino, aveva ricevuto il no alla scarcerazione, l'uomo ha lasciato tre lettere. Vediamo anche le altre notizie che troviamo nella prima pagina del centro, edizione di Pescara, consiglio regionale, caos in regione, Bracco salva la maggioranza, ieri giornata piuttosto caotica all'Aquila proprio per l'ultimo consiglio regionale prima della pausa estiva. Poi mercato etnico a Pescara, trovata un'area per i senegalesi ma solo per 90 venditori dunque del paese africano. E poi impennata di verbali a Francavilla, sosta selvaggia, mille multe. E poi una notizia che arriva da Civitella a Casanova, in provincia di Pescara, prete, sparisce a Meggiugori. In alto notizie che arrivano dall'Italia, politica, riforme, Berlusconi sponda a Renzi, ecco il patto di Ferragosto e poi la cronaca a Brescia perché pizzaioli contro lo spaccio sono stati ammazzati a fucilate. Allora andiamo a vedere l'edizione, dopo aver letto l'edizione di Pescara del Centro, andiamo a vedere, lo faremo tra qualche istante, l'edizione di Chieti Lanciano Vasto del quotidiano d'Abruzzo per andare a vedere anche in questo caso quali sono i titoli che vengono riportati in prima pagina. Ecco qui l'edizione di Chieti del Centro, Baskers e negozianti in rivolta, evento cancellato, siamo a Chieti, sindaco nel mirino delle associazioni. In alto ritroviamo la notizia del suicidio di Giovanni Grieco, poi caos in regione, abbiamo già visto, reparto in chiusura d'Ortona, punto nascita d'Ottavio, pronto a lasciare. Poi a Basto, truffa dell'estate per le vacanze, affitta la casa che non esiste. Passiamo all'edizione del Centro di Teramo, per vedere anche in questo caso quali sono i titoli della prima pagina. Poi chiuderemo con l'edizione di L'Aquila del quotidiano d'Abruzzo. Allora, ecco qui la prima pagina del Centro edizione di Teramo. Anche in questo caso viene riportata la notizia del suicidio di Giovanni Grieco, suicidio avvenuto proprio nel carcere Castrogno di Teramo. E poi una notizia importante che riguarda lo sport, il processo sulla presunta Combin di Savona Teramo. Stamattina a Roma l'udienza davanti al Tribunale Sportivo. Una giornata importante questa per il calcio bianco-rosso. Poi nelle cronache, oggi l'addio alla maestra morta sui monti. Torna la Salma. Ad Albadriatica viaggio in taxi con la droga, ragazzi arrestati. E poi a Giulianova auto contro un camion, ferite due donne. E chiudiamo con l'edizione, come dicevamo, dell'Aquila. Avezzano sul Mona del quotidiano Il Centro. Poi passeremo al messaggero. Come sempre nella seconda parte parleremo di notizie in chiave abruzzese. Ecco qui la prima pagina del Centro edizione dell'Aquila. Case inagibili, niente tasi. L'Aquila ha confermato il contributo da parte del Governo. Poi le cronache sulla 25. Benzinaio rapinato nell'area di servizio, nella zona di Avezzano. Inviava lettere dal carcere la ex arrestato, sempre in Marsica. E poi schianto alle svolte di Popoli. Ricorderete la ragazza trovata in gravissime condizioni lungo la strada che porta al percorso delle svolte di Popoli. Morta poco dopo in ospedale. È stata disposta una perizia per chiarire le cause della morte. E poi settima perdonanza senza la Basilica di Colle Maggio. Vedete la foto notizia a centro pagina. Allora lasciamo il centro. Andiamo a vedere il messaggero. La prima pagina ovviamente in chiave nazionale. Poi partiremo proprio dal quotidiano di Roma per vedere i titoli che riguardano l'Italia. Poi passeremo alla nostra regione. La Cina svaluta guerra dei cambi. Pechino deprezzo allo yuan sul dollaro e aiuta le esportazioni. Borse giù tonfo dell'industria tedesca. Grecia intensa intesa con i creditori. 85 miliardi per il terzo salvataggio. L'impegno di Atene. 35 riforme. E poi la notizia sui profughi. La Caritas nel mirino. Accosse guerriglia con la polizia. Problemi proprio nell'isola greca che si trova a due passi dalla Turchia. Ci sono stati degli scontri fra profughi e la polizia greca. Riforme. Berlusconi gela il PD. Renzi riapre. Sull'Italicum il premier. Torniamo al premio di coalizione. Forza Italia. Premio per il governissimo. E poi il focus. Pensioni d'oro alla Camera. Versi 1. Ne prendi 5. E poi la proposta prodi. Cambiamo l'Unione Europea. Il rigore miope e la strada chiusa, dice l'ex Presidente del Consiglio. Poi ancora in alto, verso l'autunno, l'attesa del Fondo Monetario Internazionale per ristrutturare il debito greco. E poi i dati sull'economia del nostro Paese. Crescita il PIL del trimestre verso lo 0,2%. Allora andiamo avanti con le pagine interne del messaggero. Pagina 2. Patto sulle riforme. Berlusconi non si fide. Forza Italia rilancia la grande coalizione. E poi c'è l'intervista ad un esponente proprio di Forza Italia, Maria Stella Gelmini, che dice il Nazareno non può tornare. Ecco le nostre condizioni. In basso, ribelli dem in allarme. Tanti non si riconoscono più nel partito. Possibile una nuova frattura all'interno del Partito Democratico. Mossar di Renzi sull'Italicum e apre al premio di coalizione. Il Premier per incassare la riforma del Senato valuta se soddisfare la richiesta del leader di Forza Italia. Non sarebbe però un patto organico, ma un Nazareno baby limitato alle due leggi. E poi vedete in basso, dai nani e ballerine e girotondi. Ora Matteo Rottama, la società civile. Pagina 4. La Cina svaluta lo Yuan per dare forza all'economia. Crollano le borse, soprattutto quelle europee. Taglio del tasso di cambio dell'1,9% rispetto al dollaro. Batosta per le esportazioni made in Italy. Milano va giù, ma non solo Milano. Attesa per il dato Istat sul PIL, crescita verso lo 0,2% nel trimestre. Pagina 5. Scatta la guerra delle monete. Spiazzati Germania e Stati Uniti. Berlino è il maggior partner commerciale, il più esposto verso l'economia del dragone, ovvero la Cina. La Federal Reserve potrebbe rinviare ancora la decisione sui tassi di interesse. Questa manovra della Cina ha messo un po' in difficoltà i paesi europei. Siamo a pagina 6. Immigranti. Caritas sotto accusa. La Lega predica bene. Razzola male. Nel Mirino il mancato utilizzo di siti religiosi. La replica non sempre agibili. I Lombard dicono ridicoli. Movimento 5 Stelle divisi. Magrillo opta per la linea dura. E in Grecia, a Kos, nell'isola di Kos, scontri, profughi, polizia. Il sindaco temo un bagno di sangue. Pagina 7. Il grande affare dell'accoglienza tra enti religiosi e confraternite. Una torta da un miliardo alla cui spartizione partecipa anche la Caritas. Il dirigente del centro di Treggiano arrestato per truffe sui rimborsi. E poi si parla dell'inchiesta di Mafia Capitale. Quelle telefonate di Mafia Capitale con le copp cattoliche si fa 50 e 50. Siamo a pagina 9. Camera. Pensioni d'oro. Versi 1 euro. Ne prendi 5. Ai dipendenti di Montecitorio 256 milioni per i vitalizi contro 50 milioni di contributi. La Previdenza assorbe il 40% delle uscite complessive ai deputati. Solo 138 milioni. Proseguiamo pagina 10. In Ucraina, un razzo russo dove fu abbattuto l'aereo della Malesia Airline. La commissione d'inchiesta olandese è trovati frammenti che potrebbero dimostrare le responsabilità dei separatisti. E poi il referendum in Nuova Zelanda. Nuova Zelanda che sceglie la nuova bandiera. In basso, Fiamman Aristen, ambasciatrice. Gli ebrei italiani si dividono. Il rabbino disegni una nomina che può creare problemi alla comunità. Apprezzamenti dal centro-destra. E poi a New York. Minaccia il fidanzato con la pistola arrestata un assistente di Obama. Siamo a pagina 11. Google si fa in due. Nasce Alphabet. La nuova società sarà capo di un gruppo. Dalla doppia anima, da una parte le attività ad alto reddito, dall'altra le sperimentazioni. L'idea di separare il motore di ricerca, le email e YouTube serve a rassicurare gli investitori di borsa che diffidano dei titoli rischiosi. E vedete qui sotto l'ascesa di Picai, il nuovo uomo forte proprio della Google. E poi vedete in basso si parla ancora di questa notizia. YouTube Nexus Nest nella Silicon Valley. La scelta del nome è la base del business. Siamo a pagina 12. Le cronache dal nostro paese. Brescia uccisi coniugi titolari di una pizzeria. È stata una esecuzione. I due killer hanno sparato a colpo sicuro. Tra le ipotesi, quella della vendetta, le vittime avevano denunciato alcuni spacciatori. E la ragazza dell'acido andrà nella casa per madri detenute. Accettata dal GIP, la richiesta di Martina, levato incinta di nove mesi, per tre anni potrà crescere il neonato, ma considerato lo stato psicologico della donna, non è escluso che poi i giudici decidano per l'adozione. Omicidio Moro a Via Gradoli. Una viere dagli occhi di ghiaccio. Novità sul covo a BR. L'uomo fu visto più volte uscire da una testimone che racconta di un trasloco notturno. E siamo a pagina 13. La verità su Lorenzo. Era malato di cuore. La tragedia nel Salento. Dopo la notte in discoteca, l'autopsia rivela una malformazione congenita, forse ignota, al diciottenne. L'indagine è continua. Una droga potrebbe essere stata la causa scatenante del malore. Si attende l'esito dell'esame tossicologico. E poi a Riccione il Cocorico riapre, ma senza musica. E in Sicilia Ilaria, uccisa a 16 anni dall'ecstasy, si indaga sulle pasticche killer. E sempre in Campania, in questo caso Frana di Massi, sulla discoteca un morto. Nel Salernitano il locale era stato chiuso nel 2011 e poi riaperto grazie a una perizia che aveva certificato la sicurezza. Siamo a pagina 14. Si parla di economia. Grecia c'è l'accordo con i creditori. Raggiunta l'intesa tecnica più vicino allo sblocco di 85 miliardi necessari al salvataggio del Paese. L'ipotesi del prestito ponte. Venerdì convocato l'Eurogruppo per mettere il sigilio finale, ma prima dovrà arrivare il via libera del Parlamento ellenico. Pagina 15 del messaggero Pirelli. Il controllo passa ai cinesi. Tronchetti dice ruolo chiave di Canfin. La ChemChain acquista il 26% e lancia l'OPA obiettivo e il Delaisting. Dunque la Pirelli diventa in parte cinese, azienda storica del nostro Paese. Poi i posti italiani. Il tesoro mette sul mercato il 40% delle azioni. Siamo all'inserto macro. Dunque possiamo passare al centro per vedere anche in questo caso i titoli che riguardano le pagine interne del quotidiano d'Abruzzo. Vi ricordo alle 7.20 il consigliato appuntamento dunque fra qualche minuto con il meteo. Pagina 2 si parla del suicidio. Ieri avvenuto nel carcere di Castrogno del presunto assassino del pasticcere Gian Domenico Orlando. Scarcerazione negata. l'assassino si uccide. Giovanni Greco si impicca nel bagno di una cella di Castrogno. Lascia lettere alla madre, all'avvocato e alla fidanzata. Queste lettere era scritto. Non ce la faccio. Il difensore Marino non ha retto al peso della coscienza. Malore per la madre. La famiglia Orlando dice volevamo giustizia. Allora noi possiamo andare a vedere il servizio che abbiamo realizzato proprio su questo fatto avvenuto la notte scorsa, due notti fa nel carcere Castrogno di Teramo. Avrebbe annodato un lenzuolo nell'inferiata della cella per suicidarsi. L'episodio è venuto la notte scorsa intorno alle 2 nel carcere Castrogno di Teramo dove si trovava recluso Giovanni Grieco, 41 anni, pescarese, detenuto dallo scorso 6 maggio perché ritenuto l'omicida di Gian Domenico Orlando, il pasticcere 67enne, ucciso a coltellate davanti al suo negozio di Pescara in via Puccini. L'intervento degli agenti penitenziari è risultato vano. Da quanto si è appreso, l'uomo avrebbe lasciato una lettera per la madre con la quale viveva nello stabile che ospita la stessa pasticceria. Le liti con l'artigiano erano diventate sempre più frequenti poiché Grieco si lamentava spesso dei rumori provenienti dall'attività commerciale che sia per lui che per la madre sarebbero diventati insopportabili. Il 41enne che aveva agito sotto gli occhi del figlio del pasticcere che non poteva fare nulla era stato rintracciato e arrestato circa otto ore dopo a Pineto. Ad occuparsi del caso il sostituto procuratore della Repubblica di Teramo Bruno Auriemma che quasi certamente disporrà l'autopsia. Questo è il servizio di cronaca proprio su questa vicenda. Pannella, le morti in carcere, un tumore. Ieri l'esponente radicale era a Teramo. Nella seconda parte del nostro appuntamento con Mattino 6. Poi vi proporremo una parte dell'intervista realizzata proprio dal nostro Alfredo Giovannozzi a Pannella. Andiamo avanti. Pagina 4, cronaca nazionale Renzi-Berlusconi, patto di ferragosto. Poi pagina 5, COS, guerriglia tra migranti e polizia nell'isola greca dove si moltiplicano gli sbarchi sotto gli occhi dei turisti. Il sindaco dice sarà un bagno di sangue. Poi naufragio a largo della Libia, 50 dispersi. Ennesimo disastro nello stretto di Sicilia. 52 i sopravvissuti, altre 120 persone salvate dalla Marina. E poi nella zuffa sui rifugiati ora spunta Grillo. Attenzione Vaticano, Lega, Movimento 5 Stelle che si spacca. L'ex comico attacca Mattarella, PD e poi annuncia mi ritiro. Siamo a pagina 6. Attualità. Una frana sulla discoteca lo uccide mentre balla. Marina di Camerota muore studente di 27 anni. Era nel locale il ciclope. Chiusa la grotta della musica, linea dura della procura. Questo è solo l'inizio. E poi una direttiva del ministro degli interni Alfano che però mette in evidenza come ci sia la mancanza di agenti. E poi l'autopsia sul cadavere del 19enne ispirato davanti alla discoteca Guendalina. Lorenzo tradito dalla cardiopatia. E poi l'altra tragedia avvenuta in Sicilia. Il PM Ilaria forse vittima di una partita di ecstasy letale. E Cocoricò, serata senza musica, uniti per vincere la droga. Andiamo avanti. Pagina 7. Atene trova l'accordo. Cautela a Berlino. Raggiunta con i creditori una corposa intesa. La Grecia aiuti per 87 miliardi di euro in cambio di 35 riforme. Domani il voto. E poi si parla di internet. La rivoluzione per Google. Nasce l'holding. Alphabet. Proseguiamo. Pagina 8. La cronaca. Esecuzione a Brescia. Ammazzati e affucilate. Gestori di una pizzeria. E poi a Pompei rubareperti. Turista nei guai. E poi ricorderete anche l'altra vicenda del giovane morto al pronto soccorso dell'ospedale di Torino dopo un TSO. Ammanettato in ambulanza la misura di contenimento impedì la rianimazione del ragazzo. TSO letale. Scusate. A Torino c'è un'inchiesta della Procura. Allora andiamo ancora avanti. Vediamo le pagine d'Abruzzo del quotidiano Il Centro. Si parla del Consiglio regionale. L'ultimo prima delle ferie. La maggioranza litica. Bracco corre in soccorso. Gerosolimo e Olivieri di Abruzzo Civico e Monticelli del PD disertano l'emiciclo. L'ex 5 Stelle vota col centro-sinistra. La variazione di bilancio e il riordino delle province. Questo è il titolo che riguarda proprio il Consiglio regionale di ieri. Molto discusso questo Consiglio regionale è più volte rinviato. Poi altri titoli. In Ceneritori in Abruzzo protestano i 5 Stelle e poi in basso 50.000 cartoline contro Ombrina. Iniziativa della FIBA con Fesercenti. Scriveremo a Renzi che il turismo abruzzese vale più delle trivelle. Ma sono le 7.20. Noi prima di proseguire con la nostra rassegna stampa. Apriamo la consuetta pagina del meteo con il nostro Giovanni De Palma che vado a salutare. Giovanni buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni siamo a ridosso del ferragosto dopo un paio di giorni di tempo sicuramente non bello. Oggi è tornato il sole. Cosa ci attende per i prossimi giorni, per le prossime ore? Se ovviamente essendo oggi il 12 d'agosto possiamo allungarci fino al weekend di ferragosto per sapere che tempo ci attende in questi giorni in cui quasi tutti gli abruzzesi sono in vacanza ed in ferie. Sì Paolo, noi ci proviamo. Intanto partiamo con la tendenza prevista per le prossime ore perché la perturbazione che fino alla serata di ieri ha favorito anche dei rovesci in particolar modo sul Chietino. Fino a ieri sera, fino a stanotte ci sono state delle precipitazioni. Questa perturbazione che ha portato anche dei temporali di forte intensità sulla nostra regione, ovviamente a carattere sparso, sta ormai abbandonando la nostra penisola. Attualmente è ancora in azione sulle estreme regioni meridionali dove pian piano lascerà il posto ad un nuovo, una rimonta dell'alta pressione, un promontoro di alta pressione che a partire da stasera e nella giornata di domani favorirà comunque un deciso miglioramento nelle condizioni atmosferiche sulla nostra regione, già in atto in queste ore, ma in ulteriore consolidamento nella giornata di domani quando è previsto anche un nuovo sensibile aumento delle temperature. Ma farà ancora una volta Paolo una rimonta temporanea perché gli ultimi dati a nostra disposizione mostrano un graduale cedimento di questa struttura di alta pressione a favore di correnti atlantiche, correnti atlantiche che inizieranno a raggiungere poi la nostra penisola e in particolar modo le regioni centro-settenzionali nella giornata di ferragosto e ciò con tutta probabilità favorirà un graduale aumento dell'instabilità già nella seconda parte soprattutto della giornata di ferragosto e un peggioramento delle condizioni atmosferiche sia in serata ma ancor più nella giornata di domenica quando una perturbazione collegata all'azione di queste correnti atlantiche radigerà gran parte del centro-nord e con tutta probabilità favorirà delle precipitazioni a carattere temporalesco un po' su tutto il centro-nord e sulla nostra regione dove sono attese delle precipitazioni localmente di forte intensità. Una situazione che poi continuerà pur con tempo di miglioramento a manifestarsi nei primi giorni della prossima settimana perché continuerà l'azione di una circolazione depressionale in azione sulle regioni settentrionali e sui vicini Balcani. Insomma torna l'instabilità Paolo a partire da ferragosto comunque poi per un quadro più preciso invito te i telespettatori poi a seguire tutti gli aggiornamenti che forniremo nelle prossime ore e nella giornata di domani Paolo. Sì, prima di salutarci Giovanni parliamo un attimo anche, torniamo a parlare anche delle temperature, che temperature sono attese per le prossime ore dopo il gran caldo del mese di luglio e anche di questa prima decade di agosto. Guarda, allora nelle prossime ore le temperature torneranno gradualmente a salire, insomma anche se nella giornata odierna comunque i valori saranno diciamo tutto sommato in linea con le medie stagionali o forse levemente al di sopra delle medie stagionali, mentre nella giornata di giovedì torneranno temperature molto elevate, anche se sarà un episodio temporaneo perché l'aria calda attualmente posizionata sull'Europa orientale, questa è un po' strana questa situazione, però è così che l'aria calda tenderà a spostarsi verso la nostra penisola, questa bolla calda e quindi favorirà un temporaneo aumento delle temperature tra domani e venerdì, poi come abbiamo detto da ferragosto insomma le correnti atlantiche spazieranno via ancora una volta e il gran caldo previsto appunto tra domani e venerdì e favorirà le correnti atlantiche, favoriranno non solo un aumento dell'instabilità ma anche una generale diminuzione delle temperature e si tornerà diciamo finalmente in linea con le medie stagionali su gran parte del nostro territorio regionale Paolo. Perfetto, grazie, grazie Giovanni, è tutto per l'appuntamento di oggi con il meteo, meteo che ritroveremo ovviamente domani nel corso di mattino 6, grazie Giovanni, buona giornata e buon lavoro. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ringraziamo Giovanni De Palma ma per saperne di più sul meteo, sul tempo della nostra regione, sulle previsioni per le prossime ore il sito, vi ricordo il sito www.abruzzometeo.org e la pagina Facebook che vedete inquadrata in questo istante per poter interagire con il nostro meteorologo e dunque rivolgere anche domande, proprio curiosità sull'evoluzione del tempo nella nostra regione, proprio in questi giorni a cavallo del Ferragosto. Dunque www.abruzzometeo.org è la pagina Facebook del nostro Giovanni De Palma. Noi proseguiamo la nostra rassegna stampa, eravamo alle pagine d'Abruzzo del centro, stavamo leggendo un titolo che riguarda questa iniziativa di FIBA Confesercenti, 50.000 cartoline contro Ombrin, andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato in merito. Sono pronte queste cartoline da inviare al Presidente Renzi, 50.000 cartoline per dire no alle trivelle nella nostra regione? Sì, sono già state, una gran parte sono state inviate, si sta lavorando in queste settimane, cioè all'avvio della stagione estiva le cartoline erano pronte, per cui saranno 50.000 e se non basteranno ne stamperemo altre. Sì, questa è una domanda fatta al Presidente del Consiglio che a nostro modo di vedere dovrebbe ragionare negli interessi generali del Paese, ma il Paese è composto anche da, come si dice, regioni, territori, inglave piccole che hanno altre esigenze e questo è il ruolo dell'Abruzzo. C'è la costa teatina che è stata salvata non da noi, è stata salvata dal treno, dalla ferrovia e quindi è stata impedita allora per questo fatto oggettivo la cementificazione e oggi ce la troviamo come qualcosa di unico a livello mondiale. Ecco, questa unicità non la possiamo giocare, scommettere su un terreno che è assolutamente incompatibile, quindi si torna ad investire nel turismo e si torna ad investire nel turismo che naturalmente ti soddisfa dal punto di vista del clean, dell'ambiente, della natura, del contesto paesaggistico. Questo non può essere svenduto, non può essere regalato e quindi noi non ci fermeremo. Vediamo le pagine d'Abruzzo del Messaggero, la prima pagina, Grieco si è ucciso in carcere, vedete il titolo di apertura sul suicidio del 41enne che era recluso proprio a Castronio, poi Vasto, bagni vietati, Pescara, il sindaco adesso se ne vada, salta la fogna, la penna firma l'ordinanza, centrodestra e Movimento 5 Stelle invece a Pescara incalzano Alessandrini. Poi vedete l'altro titolo che riguarda il processo al Tribunale federale nazionale, Teramo, il giorno del giudizio e poi vedete altri titoli come quello che riguarda l'Abruzzo da scoprire nel Terramano fra Costa e Collina. Andiamo avanti, la seconda pagina d'Abruzzo che riguarda il Messaggero dissidente all'attacco di D'Alfonso, maggioranza nel caos, consiglio nella notte, salta la Commissione Cultura convocata sull'ISA, Gerosolimo, Olivieri e Monticelli sul Gran Sasso, basta con gli spot, poi personale delle province, manovra da 5,5 milioni di euro e poi lo Zafferano ed un bando che dura 4 giorni. Questi titoli delle pagine abruzzesi del Messaggero, ora ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo per la seconda parte di mattino 6, andremo a leggere insieme le pagine provinciali del centro del Messaggero e della città. Seconda parte di mattino 6, siamo alle pagine provinciali, partiamo dal centro, Pescara, Senegalesi, l'area c'è ma i posti sono solo 90, un bando per assegnare gli spazi, adesso servono le licenze, dunque sventato lo sgombero del mercatino dell'area di risulta, nascerà in via De Gasperi, il nuovo mercatino ma solo per gli ambulanti in regola. Ed Alfonso impose la linea soft scontro con Cuzzi, lite sullo sgombero mentre Alessandrini è in vacanza, prevale la posizione del presidente della regione, sospiri di sollievo e accuse per il mancato sgombero e poi vedete in basso questo articolo gli scivoloni del comune, ordinanze ballerine, 3 dietro front in 10 giorni. Andiamo avanti, la prossima pagina del centro riguarda la cronaca, la casa va a fuoco, lui sparisce con il cane Cepagatti, 48 anni affidato ai servizi sociali, si allontana subito dopo il ruogo, danneggiato anche un alloggio vicino, incendio anche a Elice vicino alla Sagra ma nessun danno per le abitazioni. E poi mare sporco, ora il sindaco si dimetta, ieri c'è stata una conferenza stampa degli esponenti di centrodestra che hanno chiesto a gran voce le dimissioni del sindaco di Pescara Marco Alessandrini. Andiamo ancora avanti per vedere, lo faremo tra qualche istante, le altre pagine del centro. Pagina 19, Movida senza controlli, via Battisti, invivibile per noi residenti, risse, sporcize e rumoni fino a notte fonda in 200, hanno già firmato la petizione per chiedere l'anticipo delle chiusure, la nuova Movida, la nuova zona della Movida di via Battisti in pieno centro a Pescara e poi rumori oltre il limite in piazza Salotto si preparano a chiedere i danni al comune. Andiamo avanti, vedete c'è questa doppia pagina per gli appuntamenti della settimana di Ferragosto, poi noi siamo a Francavilla, auto su strisce marcia a piedi, mille multe in un mese e mezzo, Francavilla, guerra ai parcheggi selvaggi impennata di contravenzioni della Polizia Municipale, raffica di contestazioni anche per chi non rispetta la sosta blu o i limiti previsti dal disco orario. Aspoltore mostra sul soldato De Sanctis, reporter della grande guerra. Andiamo ancora avanti, siamo alla pagina di Montesilvano del quotidiano Il Centro, si parla di rifiuti, in questo caso protesta in comune per gli stipendi in ritardo. I dipendenti della Tradeco accusano la ditta subentrata nel 2014 alla Ecoem e non abbiamo neppure i soldi per la benzina. Domani incontro con il vice sindaco e poi denunciate due persone, finti profumi Gucci e Versace, pronti per essere venduti, operazione dei carabinieri. E manifestazioni estive anche a Montesilvano, stasera lo spettacolo Ciak si suona. Andiamo ancora avanti, siamo alla pagina dell'Interland pescarese, in questo caso a Penne, dunque nell'area vestina, il violento temporale fa tornare la paura frane, Penne di nuovo allarme per gli smottamenti nei paesi dell'entroterra. Il sindaco D'Alfonso per tamponare le emergenze dicono servono i fondi regionali. A Popoli questa sera ci sarà un recital in ricordo del cittadino illustre di Popoli, Corradino d'Ascanio. E poi l'incidente di Penne fuori pericolo, i feriti nello scontro frontale di due sere fa. Siamo a Caramanico, profughi al lavoro per il Verde e il Comune utilizzerà 10 migranti per interventi di manutenzione. E a tocco Casauria, vedete in basso c'è anche questa foto, l'Enel sostituisce un traliccio con l'aiuto dell'elicottero. Andiamo ancora avanti, siamo alla seconda pagina della provincia di Pescara. Questa notizia che arriva da Civitella a Casanova, missionario scomparso a Meggiugori di padre Luciano Cicarelli, 79 anni, di Civitella a Casanova. Non si hanno infatti più notizie. Dal 2 agosto allarmati i parenti. A Loreto proseguiamo con la pagina di Chieti del Quotidiano Il Centro. La polemica per l'evento cancellato, parliamo del Basket Festival cancellato, insorgono i negozianti a guidare la rivorta Marisa Tiberio di Confcommercio che dice categoria e città penalizzate. Lido Legnini di Confesercenti, comune incapace di programmare gli stanziamenti. E la reazione del PD, fatto grave, il sindaco farebbe bene a dimettersi. E poi invece da Chieti andiamo a Vasto perché si parla di una truffa, prende in affitto l'appartamento fantasma, Vasto truffa della casa delle vacanze, 20 iraggirati tra i quali un giornalista che scrive al sindaco. Siamo alla pagina dell'Aquila del Centro, il settennato di Colemaggio, fedeli ancora senza basilica, fermi al palo i lavori da 14 milioni per l'edificio sacro e l'attiguo Parco del Sole. L'assessore Di Stefano dice Leni deve scegliere la ditta per eseguire i restauri. E poi l'orchestra sinfonica abruzzese, scontro sul finanziamento in commissione in regione. E poi la pioggia, ferma la Turci, Rocca di Mezzo, sindaco infuriato per il mancato concerto. E siamo ancora alla pagina dell'Aquila e provincia, dalle pagine del centro. In questo caso siamo nella Marsica, a Magliano dei Marsi, perché sulla 25 è benzinaio rapinato alla stazione di servizio, costretto a consegnare l'incasso ad un malvivente solitario armato di pistola. Il distributore aveva già subito un colpo analogo nel mese di aprile. E poi siamo ancora ad Avezzano, dal carcere, 20 lettere alla ex arrestato. Atti persecutori, misura a carico di un giovane pescarese già accusato di pressioni sulla donna. Andiamo ancora avanti, siamo alla pagina di Teramo del quotidiano Il Centro. Oggi l'addio alla maestra morta sul Gran Sasso, l'autopsia, deceduta per i traumi ma anche per uno stato di ipotermia. Il PM dell'Aquila invia alla forestale a fotografare i luoghi dell'incidente. E poi il maltempo, nuovi allagamenti e alberi pericolanti lungo le strade di Teramo. E ad Alba Adriatica, in taxi con mezzo chilo di eroina, la polizia stradale arresta due rom di 18 e 19 anni. Rientravano da Pescara con la droga. Allora, prima di passare alle pagine dello sport, dobbiamo ancora andare a leggere insieme le pagine locali del messaggero e della città. Partiamo dal messaggero, pagina dell'Aquila, la prima nell'inserto Abruzzo. Tancredi, non ho fatto nulla che non sia assolutamente lecito, una lunga memoria difensiva dell'esponente politico aquilano. Le affermazioni di Lupisella sembrano parte di un'attenta regia. La frase, se scoppio io scoppio una bomba, era solo uno sfogo per questioni di tipo politico. E poi si parla del Parco. Il Ministero dice Parco, ora va nominato il vicepresidente. In basso i dipendenti della Vicentai, stipendi in ritardo e a rate. E poi la sicurezza stradale nell'Aquilano. Estate fioccano le multe. Siamo arrivati a quota 1.500. Tornando all'inchiesta social dumping, Salvatore e Di Meo ricorrono al Tribunale della Libertà. Siamo a pagina 2 dell'Aquila. Si parla di telecamere antivandali. Mancano i soldi per difendere il centro storico dalla furia di teppisti e sciacalli. Trifuoggi, vice sindaco dell'Aquila, propone l'installazione di apparecchiature temporanee. Ma Capri avverte, non si potranno prevedere delle spese extra nel bilancio. Potremmo recuperare somme residue dopo attente verifiche. E poi il consigliere regionale De Matteis dice persi i fondi FAS per potenziare l'aeroporto. E poi in basso gli appuntamenti una serata con Barattelli e il teatro stabile Aquilano. Proseguiamo. Siamo alla pagina di Avezzano sul Mona del Messaggero, ospedale per i NAS va chiusa all'ala vecchia, diffida al comune a emettere specifica ordinanza. Poi a Magliano dei Marsi ritroviamo l'articolo sulla rapina all'autogrill e poi a Sul Mona si indaga sulla morte della 31enne che sarebbe rimasta vittima all'alba di domenica di un incidente stradale. Ma ci sono diverse questioni da chiarire. Poi ad Avezzano stalker arrestato appena uscito dal carcere dalla cella. Un 27enne aveva tempestato di sms e telefonate la sua ex. E siamo alle pagine di Pescara. Del messaggero si impicca in cella il killer del pasticciere Giovanni Greco si è ucciso l'altra notte a Castrogno. Marino il suo legale dice era incompatibile con il carcere. Ha legato un lenzuolo alle sbarre e l'ha fatta finita. inutile ogni tentativo di soccorso da parte degli agenti. La vedova del pasticciere ucciso da uno come lui bisognava aspettarselo. E il direttore del carcere dice nessun segnale di disagio. I sindacati inascoltati i nostri appelli. Ma ieri su questa vicenda ha parlato a Teramo anche l'esponente radicale Marco Pannella che è giunto nella città terramana proprio per affrontare le questioni anche di carattere nazionale riguardanti proprio il problema delle carceri nel nostro paese. Andiamo ad ascoltare quest'intervista realizzata dal nostro Alfredo Giovannozzi. Marco Pannella a Teramo vuole parlare dei diritti dei detenuti e protestare per l'esclusione di Rita Bernardini dalla candidatura garante. Poi arriva la notizia del suicidio a Castrogno di Giovanni Grieco e lui si altera quando gli si chiede un commento perché ormai un suicidio in carcere per Pannella è una non notizia. Stamattina quando sono arrivato e mi dovevate chiedere qualcosa di notizia. Io non vi rispondo perché ho detto ma che notizia è? Dice Castrogno si è suicidato uno o lei che ne pensa? Non è. Io sono giornalista pure io. Venimmi a chiedere a me che ne penso di quello che è stato assassinato dal regime italiano come tanti altri eccetera. Io penso che forse non facciamo male o grazie ai contratti che abbiamo e non abbiamo a essere oggi qua assieme a parlare un po' di queste cose. Dico ma guarda sti scemi, sti cretini, sti imbecilli, no guarda questa gente, ma guarda questi che ci rappresentano, ma guardo non solo l'occasione Bernardini ma sto qua per cercare sicuramente di impedire ci riusciamo perché quando io vado nelle carceri, chi c'è venuta con me? Qualche volta dice, io in genere a un certo punto subito alzo la voce e insulto. Chi insulto? Quelli che sono scoraggiati e mi dicono ma non... e io gli dico cretino. L'annuncio che il leader radicale vuole fare nella sua città riguarda comunque la lotta per i diritti civili, portata avanti da lui con l'ennesimo sciopero della fame e della sete che approderà davanti al Consiglio delle Nazioni Unite. Lui ne è certo perché gli è stato garantito. Ce la faremo all'ONU innanzitutto a che sia dedicata la sessione lì soprattutto a quello che noi chiediamo. Che cosa? La transizione dagli stati di oggi in grande maggioranza agli stati di diritto. Ecco, a terra lo sto per questo. Torno a dire siamo in una situazione nella quale la notizia di Castronio, non notizia, è come un tumore per ciascuno di noi, di qua. Non ti accorgi che stai male, non lo senti eccetera, ma continuamente senti qualcosa che no, sta roba deve finire. Pannella, nell'incontro di questa mattina, va comunque come al solito a ruota libera e non manca neppure l'ormai solito messaggio per Papa Francesco, considerato ormai come un vecchio amico. Dice e mi ha detto a me, ma ha scritto e poi l'hanno detto che me l'hanno scritto, sii coraggioso. E io dico, come no? Certo. E ora devo dire dinanzi a quello che gli accade attorno, non c'è da sorprendersi, a Papa Francesco, sii coraggioso perché hai ragione, perché rappresenti le ragioni della civiltà del mondo, di questo. Queste le dichiarazioni dell'esponente radicale Marco Pannella. Noi andiamo avanti, eravamo alle pagine di Pescara del Messaggero. Il mercato etnico sarà spostato in via dei Gasperi. L'amministrazione cittadina trova l'accordo con i senegalesi del vecchio, così si rispettano legalità, igiene, sicurezza. E poi Mare Sporco, sindaco, è giunta a casa. Il centrodestra in comune si unisce alla richiesta dei Cinque Stelle, esposto in procura sulla vicenda, esposto che era stato presentato già alcuni giorni fa. Andiamo a sentire nel prossimo servizio proprio alcuni esponenti del centrodestra che ieri in conferenza stampa hanno attaccato il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Mace, il centrodestra unito ribadisce la gravità di quanto accaduto pochi giorni fa a Pescara per lo sversamento di liquami in mare. Avete chiesto anche le dimissioni del sindaco della Giunta, ma avete sottolineato che è venuto meno il rapporto di fiducia tra il sindaco di Pescara e i pescaresi. Non c'è un cittadino pescarese e non soltanto pescaresi, ma anche coloro che raggiungono Pescara per motivi di turismo, per trovare i propri parenti, per apprezzare la bellezza di questa città che non sia indignato per la superficialità dell'amministrazione, soprattutto per le dichiarazioni che il sindaco ha fatto in questi giorni quando è stato chiamato a giustificare un comportamento che ha completamente ignorato o comunque non ha messo al corrente la sua comunità, la sua popolazione rispetto ad un problema enorme. Va ricordato e a me veniva sempre ricordato quando ero sindaco, giustamente, che il sindaco non è soltanto colui che presiede la Giunta, non è soltanto colui che guida una comunità, ma il sindaco è il primo responsabile di un aspetto delicatissimo che involge la propria comunità che è la salute. Un sindaco che nasconde un'emergenza sanitaria non è degno di rappresentare la città e credo che l'unica scelta che possa fare è dimettersi e noi lo grideremo con forza perché è la voce dei cittadini di Pescara in questo momento. Si era sempre detto che lo sversamento dell'Iquami era avvenuto per 10 ore, invece si è scoperto che è avvenuto per 19 ore il 28 luglio, così come l'immissione dell'Oxy Strong è durata non 10 ore, ma 19 ore. Poi è importante chiarire anche un altro aspetto fondamentale, abbiamo scoperto che dal 28 aprile al 28 luglio ci sono stati 11 rotture della fognatura e quindi 11 sversamenti nel fiume di L'Iquami. Nessuno ha saputo niente perché l'atteggiamento omertoso del sindaco della Giunta ha impedito ai cittadini di conoscere le reali situazioni. Andiamo avanti, terza pagina di Pescara e Provincia sul Messaggero, Gay Beach Party con Ivan Cattaneo a Lido Pianeta, mare di Francavilla, si prepara il ferragosto più trasgressivo della costa abruzzese con coda di polemiche. A Montesilvano diventa capitale dello swing, mentre a Estatica di scena il teatro dialettale La Cronaca, casa distrutta da un incendio doloso, danneggiata un'abitazione vicina a Cepagatti, falsi profumi presi con 200 confezioni e poi fagioli nuvolari, mitico duello alla Coppa Acerbo. Proseguiamo pagina di Chieti, del Messaggero lo scandalo dei percorsi vita ridotti ad una giungla urbana, Piana, Vincolato e Sant'Anna regna l'abbandono a 5 anni dalla fine dei lavori e poi Basker senza soldi, accuse a Di Primio San Giovanni Teatino, capitale del pianoforte, poi picchia gli agenti, sconterà 16 mesi. Siamo alla pagina di Lanciano, Vasto Ortona, salta la fogna, tuffi vietati a Vasto, l'ordinanza del sindaco La Penna sulla base dei dati dell'Arta riguarda il tratto di mare davanti il monumento alla bagnante. A quanto pare la condotta non ha retto agli ultimi nubi fragi, chiesto l'intervento della magistratura. Desiati critica i lavori. Ad Ortona da settembre la Cicogna va a Chieti, si parla del punto nascita dell'ospedale ortonese e poi ordinanza di pupillo a Lanciano, multe fino a 206 euro a chi spreca l'acqua. A Lanciano vogliamo fare musica, Piovano lancia l'appello e Antonella Ruggero stasera a Vasto, verso il Ferragosto, tanti appuntamenti nella nostra regione. Tornando ad Ortona, verso il Ferragosto si va a caccia delle stelle. Poi una notizia che arriva da San Salvo in Bichini a 101 anni sulla spiaggia di San Salvo. Complimenti a questa nonnina che a 101 anni può sfoggiare il Bichini in spiaggia. Siamo a Teramo, tasse universitarie troppo alte, botta e risposta tra l'Unione degli Universitari e il Rettore. Proprio l'Unione degli Universitari sollecita modifiche. E poi Noè Lucidi, Taglio dei Pini, il WWF va all'attacco. E poi garante dei detenuti d'Abruzzo, Pannella, in sciopero della fama. Abbiamo sentito qualche istante fa proprio le dichiarazioni dell'esponente radicale. Siamo alla pagina di Giulianova, Roseto Val Vibrata, taxi carico di eroina, due arresti ad Atria, apertura Porta Santa, due settimane di eventi. A Roseto degli Abruzzi in servizio quattro vigili urbani stagionali. E poi Giulianova, ex imprenditore, minaccia il suicidio in carcere sagre. Ad Alba Adriatica il regolamento non è restrittivo. Siamo allo sport, ma dobbiamo andare a leggere, a vedere insieme le pagine del quotidiano La Città. E dunque andiamo insieme a vedere subito la prima pagina del giornale. Lo faremo tra qualche istante, ancora qualche secondo, prima di inquadrare la pagina della città di Teramo. Giornata importante quella oggi a proposito di Teramo, del Teramo Calcio. Il titolo principale non poteva che riguardare proprio la società Biancorossa. Oggi il diavolo. Davanti ai giudici per il Teramo. Il giorno del processo sportivo. Chiacchio affila le armi per smontare le accuse e salvare la serie B. Gli altri titoli. Sgarbi, ospita il Cursal di Giulianova che ha bacchettato un po' tutti. E poi altri titoli che ritroveremo nelle pagine interne. Dunque andiamo a vedere insieme le altre pagine del quotidiano La Città. Pagina 3 che riguarda l'Abruzzo, soprattutto il Consiglio regionale. Monticelli fa lo sgambetto a D'Alfonso assieme a Oliveri e Gerosolimo. Non si presenta in Consiglio regionale. Manda in crisi la maggioranza. Poi Ambiente. Renzi regala l'inceneritore all'Abruzzo. La denuncia del Movimento 5 Stelle. Poi Banche. La Banca Popolare di Bari si prepara a diventare una S.p.A. Andiamo avanti. Pagina 4. Ecco qui il titolo che riguarda il Teramo Calcio. Il giorno della verità. Oggi a Roma il processo sportivo nei confronti di Campitelli e di Giuseppe. In ballo la permanenza in Serie B. Proseguiamo. Pagina 5. La bomba d'acqua fa il bis in piena notte. Centinaia di allagamenti e alberi abbattuti a fuoco. Un campo di rotoballe incendiato da un fulmine a Teramo. Tombini ostruiti, ripuliti ma in ritardo. Ancora avanti. Pagina 6. Si impicca in carcere l'assassino del pasticcere Raffaele Grieco era accusato dell'omicidio del 67enne Gian Domenico Orlando. Trovate tre lettere in cella. E poi a Villa Mosca i funerali della maestra caduta in montagna. Pagina 7. Pomante pronto a lasciare il consiglio. Su Facebook annuncia l'addio ai social network e dimissioni in altre sedi competenti. Proseguiamo. Siamo alla pagina della provincia di Teramo. In questo caso a Colonnella. Il traffico di eroina viaggia su taxi. Gli agenti della polizia stradale arrestano al casello Val Vibrata due rom di Alba Adriatica con mezzo chilo di droga. Pagina 9. Martinsicuro. Rubinetti a secco. Il sindaco diffida il ruzzo. Il consigliere provinciale Vagnoni dice i piani di emergenza dell'azienda non sono adeguati. Servono interventi urgenti. Poi la cronaca. Sempre a Martinsicuro. Gli sfinano il Rolex appena sceso dalla macchina. E ad Alba volontari dell'ANC dirigono il traffico nonostante il divieto. Ancora avanti. Pagina 10. Vittorio Sgarbi. Salva solo il buon cibo. Giuliese. Sversate per tutti durante l'incontro di lunedì al Cursal di Giulianova. Assenti. Mastromauro e Guido Baldi. E poi sempre a Giulianova Arboretti. Mette a nudo tutte le, tra virgolette, bugie del bilancio comunale. Proseguiamo. Siamo a pagina 11. Arroseto degli Abruzzi. Maxi sequestro di borse e occhiali da sole. Blitz della finanza. portati via oltre 200 articoli con marchi contraffatti. Sempre a Roseto. Finalmente riassunti i quattro vigili stagionali. A Pineto si prepara il piano. Lo fa l'amministrazione comunale contro il maltempo. Siamo alla pagina della cultura. Penso che la musica abbia bisogno di parole. Francesco Antonioni dice la divulgazione. Fa bene all'arte. Parola di un compositore che lavora in Rai e che scrive per la Treccani. E poi solidarietà. Festa d'estate per sostenere la ricerca. Siamo a Tortoreto. I delegati della Fondazione Veronesi riuniti al Manacara per una serata di raccolta fondi. E poi ancora sport. Dopo aver visto nelle pagine di apertura i titoli riguardanti Teramo. Morro d'oro e la magia del mundialito. Grande successo per la ventesima edizione della manifestazione sportiva. A darsi battaglia lungo il percorso sono stati 150 ciclisti. E con lo sport della città di Teramo noi abbiamo aperto ufficialmente l'ultima parte della nostra rassegna stampa di Mattino 6 e andiamo a vedere gli altri titoli di sport che riguardano la nostra regione e gli altri quotidiani. Partiamo dal centro. Le manovre di mercato del Pescara. Salamon offerto un milione. La Samp, Famuro e Biancazzurri vogliono il difensore polacco. Valutato 2 milioni dai blu cerchiati. Si insiste anche per l'attaccante Boaci dell'Atalante ma il vertice slitta. Pagina 43. Virtus Lanciano pagherà il rischio. La Ternana piomba sul mediano rosso nero. Serie D chieti attivo. Nel mirino Mariano. Menegussi in prova. Andiamo avanti. Ecco la doppia pagina dedicata al processo che riguarda il Teramo Calcio. Il giorno della verità. Teramo in aula per la B. Scontro tra accuse e difesa sulla partita promozione di Savona. Ecco le tre mosse della difesa. Campitelli estraneo. Atti e dichiarazioni per dimostrare che il presidente non ha incontrato Barghigiani prima e dopo la gara. Vedete nella foto grande il presidente Campitelli e il DS del Teramo. Attualmente sospeso Marcello Di Giuseppe. Poi di fianco la foto dell'avvocato della società bianco-rossa Edoardo Chiacchio. E poi in basso Catania in Lega Pro con meno cinque punti. Richiesta morbida di Palazzi in virtù della collaborazione. Pulvirenti dice col caccio. Ho chiuso perché ieri si è aperto il processo che riguarda la società siciliana. Ancora sport pagina 46. Il Pescara calcio a 5 pronto ad ingaggiare il fuoricrasse Grello e Roseto Sharks. Siamo al basket. Nel mirino l'ala pivot Trapani. E poi un titolo che riguarda la palla a nuoto perché c'è il colpo della palla a nuoto Pescara, l'original Marines. Torna infatti Gianni Giannuris che aveva allenato il Pescara in Serie A diversi anni fa. E noi chiudiamo con lo sport, con le pagine dello sport del messaggero. L'apertura dedicata al Teramo, il giorno del giudizio. Oggi il processo davanti al Tribunale federale nazionale per la presunta combin della partita contro il Savona. La sentenza potrebbe essere messa venerdì pomeriggio. Si punta al proscioglimento o a una penalizzazione minima. L'Aquila di Nicola, le strade si dividono. C'è anche il processo per quanto riguarda l'Aquila Calcio. E poi Lanciano, la Ternana, ora tenta Paghera. Ritroviamo questo titolo sul Lanciano. E poi Pescara-Atalanta, incontro per Boacì. Claudio Mazzaufo, il terramano che fa volare i big. Si parla del personaggio, in questo caso a Roseto ancora sugli scudi. Un grande personaggio dello sport nostrano. Il preparatore abruzzese in Brasile per un progetto Fidal in vista delle Olimpiadi. Poi basket e calcio a 5. Roseto aspetta Trapani o Callan. Delfino, calcio a 5. In questo caso Pescara, colpo grosso, preso Grello. E siamo dunque giunti al termine con lo sport del messaggero della nostra consueta rassegna stampa di mercoledì 12 agosto. Vi ricordo come sempre alle 14 il primo appuntamento con il Tg6. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Grazie per aver guardato il nostro corso! Grazie per aver guardato il nostro corso!